Ciao, bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo un'altra maglia dei mondiali che stanno per iniziare, la maglia della Germania, la seconda maglia della Germania in versione player, quella dedicata ai tifosi. Il kit da trasferta della Coppa del Mondo Germania 2022 è stato appena rilasciato, introducendo un nuovo look audace per la squadra. La maglia da trasferta dell'Adidas Germany 2022 è prevalentemente nera con loghi e accenti dorati, nonché una sottile grafica maranto che copre la parte anteriore e le maniche. Basato sullo stesso modello della maglia da casa della Colombia 2022, il colletto della maglia da trasferta della Germania è nero con rifiniture marrone e rossiccio. La colorazione ufficiale della maglia da trasferta della Germania è black, shadow marrone, tactile gold metallic. La grafica della parte anteriore della maglia riprende la D di Deutschland. Pantaloncini e calzettoni neri completano il kit. Per me è fantastica, questa maglia è stupenda, strepitosa, ha dei colori veramente bellissimi con queste sfumature e con questi toni, questi accenti color oro. Nella mia personalissima classifica questa prende il massimo, 5 stelle. Peraltro il costo che vedete veramente bassissimo, quindi voglio dire non vi rimane che metterla nell'armadio. La maglia è fatta molto bene, era un nuovo fornitore nel quale mi sono imbattuto e devo dire che sono rimasto veramente soddisfatto. Maglia perfetta, colori bellissimi, consegna velocissima, costo veramente conveniente, non vi resta che metterla alla prova. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per comprarla. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità. Prima di lasciarmi però, regalatemi un like e iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 chili circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.